Dopo il primo dossier giovani estilato a marzo di quest'anno dal governo Monti per mettere in luce la situazione occupazionale giovanile in Italia, Palazzo Chigi ha presentato il secondo dossier giovani, incentrato in particolare sulle misure adottate dal governo per il lavoro, il mezzogiorno e la famiglia. Suddiviso in tre parti, il documento esamina nel primo capitolo le conseguenze della riforma del mercato del lavoro, concentrandosi nello specifico sulle misure ideate per favorire l'occupazione giovanile e contrastare il fenomeno della precarietà. Si dà rilievo poi alle nuove regole per l'apprendistato e alle ultime novità in tema di disciplina di triocinio. La riforma del mercato del lavoro, approvata dal Parlamento il 27 giugno di quest'anno, si concentra su tre pilastri. Favorire l'occupazione giovanile attraverso misure come l'apprendistato, divenuto nell'attuale mercato del lavoro il principale strumento per iniziare una carriera lavorativa. I contratti a tempo determinato, che potranno d'ora in poi essere stipulati senza l'obbligo di indicarne la causale, i contratti intermittenti o a chiamata, che per la prima volta potranno essere conclusi anche con soggetti di età inferiore ai 24 anni, i quali dovranno svolgere la prestazione entro il compimento del 25esimo anno d'età. Un'ultima misura è quella relativa al lavoro accessorio in agricoltura, che prima della riforma era limitato solo a ristretti ambiti di attività. Oggi potranno accedervi anche i lavoratori pensionati, i giovani al di sotto dei 25 anni, le casalinghe e i lavoratori con contratto a tempo parziale. Il secondo pilastro su cui poggia la riforma è la tutela dei giovani e il contrasto alla precarietà, in particolare rivolgendosi alla regolamentazione degli abusi che spesso riguardano categorie di lavoratori flessibili, revisionando misure come i contratti a progetto, le partite IVA, i contratti a tempo parziale e il tirocinio. Così per il contratto a progetto viene ulteriormente rafforzato il requisito della specificità del progetto, mentre per la partita IVA viene eliminato il rischio di impiego delle partite per dissimulare rapporti di lavoro subordinato ed eludere le relative tutele e doneri. Per quanto riguarda i contratti a tempo parziale, se prima della riforma del mercato del lavoro le parti del contratto potevano concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, oggi gli studenti lavoratori potranno revocare il consenso alle clausole, conservando il posto ed effettuando solo l'orario di lavoro previsto dalla forma di contratto. Per quanto concerne il tirocinio formativo e di orientamento, la riforma prevede il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Per finire, il Governo Monti ha modificato le norme vigenti in materia di ammortizzatori sociali, consentendo l'accesso anche a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, grazie all'istituzione dell'Aspi, il nuovo sistema di assicurazione sociale per l'impiego. Ciò che fa bene ai giovani fa bene al Paese. Con queste parole, il Presidente del Consiglio, Mario Monti, esprime l'importanza delle giovani generazioni per il nostro Paese, confermandone la priorità nell'agenda dell'esecutivo. Per ulteriori informazioni, consultate il sito in sovrimpressione.